si vola chi chi? che abbiamo? che abbiamo? che abbiamo? farmaiolo! ma non fa nulla questo allora io inizio a togliere tutti i letti di tutti allora abbiamo il farmer si gode filmi se ci sono delle casse così guardo pure dove è bella casa questa oh però questa è la nostra casa base enorme dobbiamo pure la farm di mucche fanno ucciderle quelle dobbiamo pure la farm di mucche polli è veramente un bel un bel robo si infatti è una gran gran roba eh quella lì 2 cioè hai visto quella lì con due letti quella lì si ma hai aperto le casse o non le ho proprio trovate eh non ci stanno eh ve lo piglio un po' di allora vogliamo fare cosa fanno la farm di mucche tu? quella lì che le metti tutti in un blocco ehm si possiamo killarlo si attento che è una shot e l'altro questo chi è? ok questo l'ho visto prima è abbastanza via con me ok ok allora fai un secchio la farm allora facciamo prima la farm di ferro che dici? la farm di ferro qua precisa torca di venire da me perchè boh a meno che non la facciamo no in mezzo al cosa non conviene facciamola qua dai allora faccio così faccio così ok verrà fatta precisamente qua uno due tre e quattro uno due tre quattro uno due tre e quattro hai preso già qualche qualche secchio per caso? eh 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 si però beh dopo mettervi l'acqua ehm cazzo beh dammi il secchio dai no no grazie chi è chi è? ah questo mettiamo nella barca cioè questo lo vediamo easy oh si vola vai a vedere gli altri? ah la da te ok ok allora metti la la ok a posto a me si stronzi stanno dentro quindi mo' sattano pure lo spawn che stai facendo? che cane ma non metterle ora nel buco perché le fai saltare? non farle non metterle ora le mettiamo poi dopo rimettile qua giù dai salta togli ma togliti togli il grano da mano niente ragazzi niente va fermati vieni qua da me fai un altro lavoretto dai ok quindi così ok questi vanno spostati oh ah sorry stai ricostruendo? eh vanno spostate allora li metto eeeh dobbiamo spostarci perchè qua dobbiamo fare la cosa eeeh eeeh secchio l'acqua dov'è? vabbè sta qua è infinita a posto ahhh in futuro li facciamo di entrare tutti i librai a questi comunque tutto intorno è fatto non c'è nessun problema giusto nessuna altezza di 3 dentro è giusto così la fucking domanda è perchè questa stronza ancora non è esponato ma vediamo allora probabilmente perchè devo dare devo dare gli incarichi a questi sotto se non gli togli in carica questi sotto questo è un fucking problema questa è ok quindi abbiamo attimo vedere noi di fare le varie cose allora la niente la dentro niente e di la niente ora eeeh non stanno nel nel chunk vabbè facciamo così ma la mettiamo dentro diventando notte loro dovrebbero iniziare a dormire questo è perfetto se loro dormono non vorrei che così perchè sennò veramente mi voglio uccidere nel senso se c'è veramente un problema del genere mi voglio veramente uccidere allora l'acqua va là quindi mettiamo uno qua se uno qua uno di qua e qua al centro andrà la lava che ora andiamo a prendere big lava andiamo qua sotto prendiamo la lavuccia qua qua c'è una zolla vabbè qua è sette uno due tre quattro cinque sei sette questo dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare fanno andare indietro direi di sfermi il video qua ci vediamo alla prossima ciao belli ciao belli